Una azienda che ha creato una grande leadership per le Wet Wipes, che è GS Converting, quali sono le caratteristiche vincenti che hanno condotto questa leadership di mercato e quali tra l'altro quelle che introducono ad una leadership per questo anno 2019 che si vede sempre più strutturata? Noi operiamo in un contesto estremamente competitivo e un'azienda che vuole competere in uno scenario che è fortemente aggressivo sia in termini di offerta che di prezzo deve sapere organizzare le proprie strutture anche in termini di ricerca e sviluppare. Questo noi lo facciamo perché abbiamo laboratori avanzati che ci consentono di determinare le scelte future dell'azienda sui prodotti. Quest'anno è stato un anno positivo per l'azienda, ha lanciato nuove linee di prodotto sia in area cosmesi che in area casa perché uno dei valori fondanti di Converting Wet Wipes è sicuramente la poliedricità nel rifornimento di prodotti innovativi nel settore casa e cosmesi per sole. Non trascurerei anche il mondo del pet care rispetto al quale stiamo ottenendo dei risultati sia in termini di private label che di marchio proprio estremamente positivi. Quindi c'è un'ulteriore apertura verso un canale che per molti anni sembrava una nicchia e oggi sta esplodendo. Abbiamo realizzato linee di prodotto compatibili con il mantello del cane, quindi il mantello lungo ha bisogno di uno shampoo balsamo dedicato in grado di districare anche il pelo dell'animale e poi a pelo corto. Questi prodotti sostanzialmente per i cani ma anche per il gatto, qualora il gatto si lasciasse avvicinare dall'acqua perché non è molto facile. Contestualmente abbiamo sviluppato guanti umidificati per la pulizia del mantello ed è un'immolazione piuttosto importante perché comunque esclude il contatto dal pelo dell'animale e salviette di ogni genere per la detersione anche degli occhi e della bocca e orecchie del cane. Quindi abbiamo fatto un lavoro di specializzazione anche in questo ambito. Il business dell'azienda e del signor Sorrentino è nato nel mondo delle salviette umidificate. Noi oggi abbiamo impianti produttivi estesi su oltre 30.000 metri quadrati in superficie. Siamo in grado, come lei accennava, di presidiare molto bene la parte dell'oral care, direttamente con produzioni dedicate per le insegne e per i nostri marchi, sia per quanto riguarda l'anticaria, l'antitartaro e per le gengive sensibili. Si sta aggiungendo un dentifricio al carbone per rispondere anche a delle esigenze più specifiche, se vogliamo anche più in tema ecologico, che è uno dei must e dei cavalli di battaglia del Cosmo Proofa di quest'anno. Per quanto riguarda le salviette, noi presidiamo il mercato nazionale e internazionale da molti anni. Diciamo un vanto perché lavoriamo con le migliori insegne del panorama distributivo e stiamo ottenendo dei successi rilevanti sui nostri marchi. Noi abbiamo pensato di entrare sul canale della profumazione casa e bucato con un prodotto che abbia la capacità di estendere il profumo, oltre che sul bucato utilizzato, anche nell'ambiente. È noto che quando si fa andare una lavatrice, per azione della centrifuga e della temperatura dell'acqua, vi è poi un'evaporazione del profumo che noi utilizziamo per profumare il lavaggio dei nostri tessuti, che rimane poi nell'ambiente. Abbiamo cinque differenti fragranze, una più buona dell'altra, e per dirle anche nei formati abbiamo diversificato dai 100 ml fino ai 500 ml, che è il formato che ho in mano in questo momento. In breve tempo, parliamo di tre anni, Convertine è diventata la leader di mercato nella profumazione bucato, liquida in Italia. Sappiamo che il mercato è diviso fra polveri, granulati e liquidi, noi recitiamo il ruolo più importante in questo momento nel segmento dei liquidi. Da alcuni anni abbiamo acquisito la società Miranda, quindi fa parte del gruppo Converting. Ad Miranda ha una storia di 20 anni, è una società leader per quanto riguarda la produzione e commercializzazione attraverso i marchi delle principali major internazionali. Faccio qualche cenno, noi collaboriamo con Universal, quest'anno abbiamo preso la licenza dei Minions, della quale si aspetta l'uscita del fin l'anno prossimo, Curious George, e poi un altro prodotto vincente, assieme a tutto il resto della gamma, sono le LOL, è un vero fenomeno di mercato, che oggi possiamo vantare nel nostro portafoglio prodotti e siamo leader in questo mercato in Italia. Noi abbiamo la fortuna di avere un titolare d'azienda che da oltre 40 anni opera in questo settore e che ci consente ogni anno di poter investire in innovazione. Tenete conto che ogni anno si dice che non c'è più nulla da inventare, poi puntualmente, per fortuna, si trova la novità del momento. Ecco, noi cavalchiamo questa visione del nostro titolare e oggi Converting è in grado di poter dire, raccontare, che è un'azienda, per quanto datata dal punto di vista della sua fondazione, attuale e con una proiezione ai mercati futura estremamente positiva. Grazie a tutti.